Sinistro dell'area di rigore del Napoli, due uomini in barriera, Pecci e Celestini, parte Maradona, colpo di testa di Pasculli ed è gol. All'ottavo minuto del primo tempo l'Argentina è passata in vantaggio con Pasculli che ha messo dentro di testa su punizione calciata magistralmente da Maradona. Palleggiatori gli argentini, Almiron va a ricevere sulla fascia destra, scambia con Buruciaga, cross di Buruciaga, Bagni, Bagni ci cischia un po' e poi c'è il tiro di Garre e il secondo gol dell'Argentina. dodicesimo minuto del primo tempo, l'Argentina raddoppia con Garre, Maradona ancora gioca davvero bene l'Argentina. Ancora Borghi si fa vedere, ottima azione sulla sinistra, colpo di testa di Almiron. Celestini, Barbas, tenta la conclusione Celestini, il pallone, in punizione, parte Bertoni, tenta il pallonetto e Slas è bravissimo ad andare a togliere la palla dall'incrocio dei pali alla sua destra. Bagni, ottima finta di Bagni su Maradona, che si merita questi applausi del pubblico, ma c'è al tiro pronto Pasquilli. Si fa vedere sulla destra Celestini, ma Bertoni preferisce mettere al centro, c'è stata l'avanzata contemporanea di tutti i giocatori dell'Argentina, ma Ferrario era in posizione regolare, ha servito poi Pecci, che ha accorciato le distanze. Dunque al quarantesimo minuto il Napoli ha accorciato le distanze con Pecci, Geri che va alla battuta. Aria a zeppa, svetta Ruggeri, poi c'è l'uscita di Garella su Pasquilli, il quale commette fallo sul portiere del Napoli. Pecci, l'autore del gol del Napoli. Pecci si fa luce in mezzo a tre avversari, poi Bertoni obbliga a Slas ad una difficilissima... Giordano viene anticipato da Ruggeri e proprio in questo istante arriva il Tispio...